Intro Andate un attimo sul canale di Axios00 Siamo qui con nuovi video di Minecraft Wii U Edition Siamo nella fattispecie Nella edizione Super Mario Edition Allora, prima di tutto mi sono appena Reso conto che di una cosa Ho fame, decisamente Tanta fame, quindi vediamo un attimo Di rifocillarci un po' Ok, qui direi di mangiare un po' Un panetto, almeno riettiamo full Perfetto, alla grande Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati la scorsa volta Quindi da questa zona un po' Complessa e problematica Ma del resto c'è anche questa Quindi allora, esploriamo un po' perché Ci serve, mi avete dato un botto Di consigli, allora prima di tutto Era la Y, di cercare i diamanti Tra la Y9 e 12 Cioè l'altezza Y9 e 12 Io avevo pensato di fare una specie Di ventaglio, iniziare a scavare a 9 E poi, anzi a 12 e poi Risalire fino a 9, almeno vediamo tutta La zona, tutta quella zona lì Però, visto che ci siamo e siamo qui Ho detto, ma lo sapete cosa? Guardiamo un attimo Cosa c'è in più qua giù sotto Tante volte Io mi piacerebbe bloccare Quest'acqua qui Perché dà veramente fastidio Guardate un po', intanto Ci deve essere un ragno da qualche parte Tra l'altro Vi volevo dire Che ieri è uscito Un mio video Sulle Riguardanti Le serie attive Sul canale Quindi se vi fate Date un'occhiata Mi raccomando Date un'occhiata Fatemi sapere un po' Cosa ne pensate Se vi può far piacere Avere appunto Queste serie attive Oppure no Eccetera Insomma Non ve lo perdete Mi raccomando Io qui Tanto prenderei Un po' di ferro E visto che non ne abbiamo preso punto L'ho fino ad ora E dopodiché Continuiamo l'esplorazione Oh Pirra rossa anche E carbone anche C'è tutto qui sotto C'è il delirio Ok Abbiamo Finito di prendere Tutto quello che c'era Mamma mia Se c'era roba qui dentro Ok Veramente Pieno di roba Sta zona Quindi Bene così Intendiamoci Benissimo così Vorrei fermare anche Quell'acqua lì Aspettate un attimo Che vado Perché Mi dà veramente fastidio Ok Bloccata Anche così Non ci arrivavamo Direttamente a mettere L'oggettino Ma che cosa sto usando Ok Mi sembrava di orite Vi lo giuro Mi sembrava uno di quei materiali strani Ho detto Ale Che diamine stai facendo Tanto questo ce lo buttiamo via Perché non ci serve Tra l'altro vi ringrazio Per i consigli Su come fare L'ossidiana Cioè mi avete detto Che basta buttare dell'acqua Sulla lava Col secchio Immagino Però al momento Mi piacerebbe trovarla Già Nella sua forma Comunque vediamo Magari Sappiamo più o meno Dove venire a trovarla Nel caso ne avessimo bisogno Perché io non ho il secchio Sì che ce l'ho il secchio Ok Potremmo anche provare A questo punto Almeno lo vediamo insieme Dai aspettate un attimo Però scusa Ma c'è un metodo particolare Per prendere l'acqua Perché non me la prende Al momento Cioè non riesco Non riesco a prenderla Questa Come funziona esattamente La cosa Oh 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 Chi è sto rumore Ti due rumori strani Siamo qui intorno alla lava Non volevo rimanerci dentro Alla lava Che c'è là su sopra Ah no è terra Ok Pensavo fosse Un altro blocco Tanto c'è ferro Ovunque Questi sono dettagli Non mi prende neanche la lava Ho un perro Ho un Cosa Un secchio difettoso O cos'altro Mamma mia Sei alta questa zona Veramente Che altezza siamo qui Tecnicamente Y23 Quindi Ah no Allora Ah va in su Va positivo Quindi ok Allora prima dovevamo Scendere ancora di più Per arrivare dai diamanti Ok Mi spiacerebbe sapere A quanto era il suolo Non me lo ricordo più A dove eravamo Con casa nostra Più o meno Come altezza Procediamo in avanti Eccolo là il ragnozzo E qui è un bel problema Tra l'altro Perché la lava Non la volevo togliere Il punto è Se mi prendono E mi ci buttano dentro Vorrebbe essere un grosso Grossissimo problema Ma se io ci attiro Il ragno In teoria Cioè il ragno La prende la lava O cosa Mi avete anche detto Che tra l'altro I ragni ci possono anche avvelenare Cosa che non sapevo E che mi preoccupa Al quanto È rimasto bloccato là Dalla Dall'acqua In teoria Quindi facciamo una cosa Che io me ne frego bellamente Tanto lui sta all'almo Momento Non dà fastidio Vero Tu non dai fastidio Ok L'importante è questo Io spero almeno Che non dia troppo fastidio Spero che rimanga là Sì Sembra di sì Benissimo Diamanti Diamanti Quanti diamanti Diamanti Mamma mia Fermi tutti Allora Non ti rompere adesso Perché Io spero Non ci sia la lava Qui dietro Ancora diamanti Mo vieni Ditemi Ancora diamanti Quanti diavoli abbiamo trovati La miniera d'oro Allora aspettate un attimo Che facciamo una bella cosa Perché non voglio Rischiare che quel ragno Mi rovini la festa Quindi facciamo così Almeno se c'è anche la lava Ci cade direttamente in testa E non ci sono problemi Perché scavare Sopra la nostra testa Non è che sia proprio Il massimo Ok Non c'è lava lì Lì Non c'è lava Qui Non c'è lava Però non ci sono neanche più diamanti Qui non c'è lava Non ci sono più diamanti Ne ho trovati pochi Peccato Peccato Nove diamanti Mo vieni qui ragazzi No Allora C'è da ritornare Il prima possibile In superficie Però prima volevo finire Di esplorare questa zona Mamma mia Quanti diamanti Ci siamo trovati Ok L'altra volta mi avete detto Che effettivamente Uno era pochino Avevate ragione Però era il mio primo diamante Ero tutto Contento e felice Stavolta ne ho trovati In obbia Però ho il diritto Di essere felice Stavolta No ragazzi Almeno credo e spero E suppongo In teoria Prendiamo anche questa pietra rossa Non vi preoccupate Che tanto male male Ci rifacciamo Una fornace E di ferro Ne abbiamo quanto ce ne pare Quindi non è un problema Nel caso Che rompiamo Il piccozzo di ferro C'è assolutamente problema Ok Qui ce lo togliamo Ossidiana Perfetto Abbiamo trovato l'ossidiana Non so dove Perché non la vedo Ma lui mi dice Che abbiamo trovato l'ossidiana Quindi allora Aspettate un po' C'è un po' di luce Perché poi Con questa Acqua Con quest'acqua Magari l'ossidiana È qui in terra Infatti deve essere questa qui È che non ci si capisce niente Con tutta quest'acqua Oh mamma mia Quanto è alta Questa cascata Ok faccio un po' Di pulizia Di questa acqua Nella zona E poi ci rivediamo No Da dove diavolo Mi ha sparato Mi è arrivata una freccia Tra il capo e il collo Non ho ben capito da dove Sono un attimo bloccato Forse Ah ok Mi ero Sì Ho visto che sono Sono io Sono il pollo Della situazione Ma Tanto viavolo Mi ha sparato esattamente No Devo Devo vederlo da qui Perché altrimenti Rischio Troppo Oh qui non c'è Lo scheletrozzo Deve essere qui in teoria Sì Eccolo lì Sì È lui Ok Allora facciamo una cosa Perché con quest'acqua Da sempre più fastidio Vediamo un po' Se riusciamo A togliercene di mezzo Un po' E andare là Da lui Magari Ecco In questo modo Che mi piace Poi mettiamo una torcia Possibilmente anche qui sopra Mi va bene Scendiamo un po' la zona E poi togliamoci di mezzo Lo scheletrozzo Che altrimenti Ci impedisce di andare A togliere acqua Che viene dato vucco E quant'acqua c'è Speriamo Mentre saliamo Di non ritrovare schele Questo era un creeper Non era uno scheletro Dove diavolo è Da dove diavolo è uscito Il creeper Adesso Ma perché tutti io Così a caso Maldizione Sapete che se ci colpisce Uno scheletro da qui Siamo fregati Vero No Intanto sento anche uno zombie Non è che qui l'acqua Sì siamo quasi in cima Ok spero che nessuno scheletro Silenzio No Acqua 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 L'acqua ci ha salvato Ok io intanto premo tasti a caso Quando mi vedo cadere in quella maniera Ma l'acqua ci ha salvato Non so come ma ci ha salvato Bene così Direi che quest'acqua qui Rimarrà qua Perché è un po' pericoloso Andare a toglierla Ora Cosa c'è qui Ah uno scherzo Ok uno zombie Zombie Caro zombie Venga qua Venga qua Non ci sono problemi Che discutiamo Parliamone Benissimo Ne abbiamo parlato E lei non c'è più Ok perfetto È oro quello Ragazzi Quello è oro Ok Aspettate un po' Perché Io da dove son venuto prima Perché non ci capisco più niente In teoria lassù ci sono andato Non so più dove sono Ok da qua ci son passato Perché è tutto acceso Quindi io venivo di là Volevo bloccare Quella cascata Ma non si blocca No questa è un'altra ancora Ma quante ce ne sono Aspettate E questa ce la siamo tolta Bene così Ora Il punto è Qui sotto Dov'è Lo scheletrozzo O qualunque cosa sia Credo sia uno zombie In teoria Qui mi sa che ci dovrebbe essere Uno zombie Credo Intanto Poggiamo un po' la torcia Qui i lapislazzuli Che potevamo prendere Con la piccozza di Sì Ok Intanto mi prendo Sti lapislazzuli Anche se Mi avete detto che servono Per incantare le armi Quindi Io penso sia una cosa buona Prenderli Qui c'è proprio un'altra zona Da esplorare Andiamo qui a sto punto Non mi ricordo più Cosa ho lasciato indietro Ah l'oro mi sa Ma forse ci ripassiamo di qua Sapete Forse Ah che casino No No il creeper no No Stavolta no Maledetto Schianta lì Schianta lì Schianta lì Schianta lì Esplodi Ma guardate se uno Deve esplodere E non esplode il maledetto Mamma mia Che cattiveria L'esplosione però L'ha fatta Ha fatto un po' di spazio Eh tecnicamente qui Intanto c'è un'altra Zona di grotta Tanto per cambiare Allora prima eravamo A Y23 Adesso siamo a Y19 Comunque noi ragazzi Diam Uh L'oro Credo che qui ci sia oro E qui c'è ferro E di qua c'è diamanti Ditemi che quelli sono Altri diamanti ragazzi Mamma mia che puntatone Tecnicamente c'è un problema Abbiamo quasi finito le torce Questo potrebbe diventare Un grosso Eh Problema Ma non posso lasciare Ah no È roba verde Sarebbe Tanto ferro A profusione Mamma mia Minerali di smeraldo Si scava con una piccozza di ferro O migliore Per ottenere smeraldi Ok A questo punto ci prendiamo anche gli smeraldi Che non si sa mai Tanto il ferro Dopodiché Con la piccozza di ferro Ci prendiamo lo smeraldo È uno solo ma Non me lo prende Mi sa che ho l'inventario pieno Yes Ok ci togliamo questi ciottoli di qui Anzi ci togliamo questi Intanto sono 60 Tanto li riprendiamo in Men che non si dica Mi sembrava di averne degli altri No Vabbè Intanto ci li riprendiamo Perché qui addirittura bisogna Già riprendere alcuni ore Perché bisogna fare spazio Dopodiché Procediamo andando per qua Non sto tornando laggiù sotto Perché volevo comunque Capire Dove siamo Lì intanto ci sono altri smeraldi Qui un po' di carbone Siamo sopra la cascata Le lacce dell'oro Almeno credo sia oro Quindi allora Torniamo indietro già a proposito Oh 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 L'oro Me lo sono dimenticato Minerali di oro Si scava con una piccozza di ferro O migliore Poi si fonde nella fornace Per produrre lingotti d'oro Benissimo Iniziamo a Scavare C'erano veramente pochi No ok Ritiro quello che ho detto Aspettate un attimo Non abbiamo visto questi di sopra Tecnicamente Vabbè Non sono tanti Però se non altro È sempre qualcosa Ma qua giù sotto Noi non c'eravamo già Passati Perché sento tutto Sto casino Di ferro L'avevo lasciato lì A quanto pare Oh Qui non c'è niente Bene Procedo da dove c'eravamo lasciati Prima Se lo ritrovo Smeraldo Sempre Sempre singoli gli smeraldi Li troviamo Non è che Sono rari Cioè Sembra addirittura Vabbè che prima La vena di diamanti L'abbiamo trovata enorme Però insomma Fungozi E mostri Mostri a profusione Un po' troppi mostri Forse qui Eh Un po' se riusciamo Non farci avvelenare Dal ragno Ok È andata bene Combattimento Veramente Abbastanza semplice Almeno al momento Abbiamo piuttosto fortuna Forse Però va bene così Eh Non è che mi lamento Ok ragazzi Allora Ho deciso una cosa Perché altrimenti È un problema Abbiamo veramente tante cose Non ho più torce poi Tra l'altro Ne toglierò alcune da qui E proverò a tornare In superficie Quindi Almeno rifarmi Una zona Cioè una specie di via Verso la superficie Verso dove dovremmo essere noi In teoria La nostra casa almeno Così da Quella la lasciamo Vediamo un po' di prendere Un punto alto Così da tornare verso casa E poi avere una via diretta Che ci riporta Qua giù sotto In teoria L'idea almeno di base Non mi sembra male Casa nostra dovrebbe essere Da questa Parte All'incirca Quindi io direi di scavare Da qui E poi risalire Farò tipo come quando Faccio le scale in discesa Quindi in teoria Ci vorrà un bel po' Vabbè Io ve lo salto Comunque a voi Ovvio che non vi faccio vedere Tutto lo scavo Ho lasciato il banco Ho 9 diamanti Maledizione Sto facendo Sto andando in verticale Negli ultimi momenti Sono andato in verticale Continuerò così Prima o poi Arriveremo da qualche parte Spero Cioè con la fortuna che abbiamo Abbiamo bucato una montagna Ecco la fortuna che abbiamo Io sto scavando E ci ritroveremo in cima A una montagna Perché siamo All'altezza 59 Cioè io Bu Siamo sotto a un albero Quello è un albero È il tronco di un albero Quello Siamo in superficie Ok Ora c'è da sperare Che ci sia giorno Il problema è quello Che sopra sia giorno Allora la cetta ce l'ho Quindi non dovrebbe essere un problema Mettiamola subito Ok Dopodiché vi metto Subito una torcia Perché altrimenti Non vedete veramente niente voi Quindi Allora Scaviamo un po' Mi sembra giorno a occhio Direi Direi che è giorno a occhio Vediamo un po' eh Sì È giorno Grandi Anche giorno Perfetto Alla grandissima Alla torcia Non me ne frega niente La lasciamo lì Intanto andiamo verso casa E In teoria Dove siamo risbucati qui No Qual era il tronco Aspetta No Mi sono perso Dov'era il punto Dove siamo sbucati Maledizio Vabbè Uno di questi tronchi Fatemi vedere un po' Dove siamo esattamente Me lo segno Ok Allora Torniamo verso casa Che dovremmo andare Verso questa direzione In teoria Per casa Casa Ancora non ci credo Quella è casa Siamo riusciti a ritornare Vivi Perlomeno per adesso Se non c'è un creeper Arasbettarmi dentro a casa Tanto Già che ci siamo Uuuuh Ah Tra l'altro Mi avete detto anche che Eh Gli alberi di rober Andrebbero messi Tutti insieme Ora poi la prossima volta magari lo facciamo nel prossimo episodio Risistiamo un po' tutto la cascata La recensione, il tetto, la su sopra Continuiamo ad andare su, le alberi Insomma il prossimo, con tutti i materiali che abbiamo trovato Sicuramente qualcosa di buono ce la facciamo Allora, siamo ritornati a casa L'importante è questo Direi che per questo episodio Ci possiamo salutare qui Io vi ricordo se vi va di iscrivervi I miei canali Facebook e Twitter Se vi va di seguirmi su Beaver, Instagram e Telegram E sempre se vi va di aggiungermi agli amici di Steam e del Playstation Network Trovate comunque tutti gli ID di cui avete bisogno E anche i link in descrizione di questo E di tutti gli altri video del canale Saluto ancora l'Axios00 E ci è andata di lusso perché mi sa che tra un po' era buio Benissimo, ciao!